Villa Caprile attendeva interventi da troppo, davvero troppo tempo. Ispiegabile che si è passato oltre un decennio, anzi oltre due decenni, per realizzare interventi che servono alla nostra comunità, ad un istituto che è una perla della scuola della nostra provincia, della nostra regione, del centro Italia. Oltre 3 milioni e 700 mila euro investiti qui sono 3 milioni e 7 investiti per il futuro e per lo sviluppo economico del nostro territorio. Il primo stralcio di tre stralci previsti che vedranno realizzato un convitto. Perché è importante il convitto in questa scuola? Perché questo è un istituto scolastico che ha aumentato fortemente le adesioni degli studenti, non solo della provincia di Pesor Urbino, ma anche delle regioni limitrofe. Oltre 200 studenti che arrivano dalla vicina Romagna, studenti che arrivano dall'entroterra, che hanno bisogno di servizi per poter creare il proprio futuro, ma per poter dare alla scuola strumenti per diventare ancora più attrattiva. Le mie congratulazioni al Preside, alle sue collaboratrici e ai suoi collaboratori, per l'impegno, per il cuore che mettono nell'esercitare la loro professione e nel rendere veramente un gioiello dell'istruzione marchigiana questo istituto, che ha sede in provincia di Pesor, nel capoluogo provinciale di cui noi siamo orgogliosi e fieri. I tempi verranno dettati da un decreto del Ministero per la realizzazione dell'opera, per l'erogazione dei fondi, ma noi vogliamo guardare avanti. Abbiamo già chiesto al Ministero e al Governo fondi per la Regione Marche pari a 200 milioni di euro, magari da cingere al Recovery Fund, per mettere in piedi subito altri 100 cantieri in questa nostra regione, perché dobbiamo investire in edilizia sicuramente sanitaria e ospedaliera, dobbiamo investire in infrastrutture stradali e ferroviari, dobbiamo investire nel futuro dei nostri ragazzi. Quindi nella sicurezza e nella qualità degli edifici che noi mettiamo a disposizione dei nostri dirigenti scolastici, degli operatori, degli insegnanti nelle nostre scuole, ma garantire alle famiglie che i nostri edifici hanno un elevato standard di sicurezza. Non vi sarà sfuggito che proprio in queste ore verrà pubblicato un decreto sulla ventilazione meccanica controllata nelle aule, per garantire la salubrità degli ambienti, quindi interventi sulla vulnerabilità sismica degli edifici, sull'efficientamento energetico, sulla salubrità degli ambienti che giornalmente vengono frequentati da migliaia di studenti, dai loro insegnanti e dagli operatori scolastici. Ecco il cambio di passo di cui parlavo all'inizio, la necessità di investire sul futuro di questa nazione e il futuro sono i nostri giovani. Il progetto iniziale era di spostare il convitto, anche perché la struttura ormai non è più adeguata alle esigenze degli studenti, e ricavarci delle aule. Quindi evitare che la scuola vada incontro a un dispendio di risorse e di energie, con l'asilo benvenuti, e le stesse aule ricavarle dove era l'ex convitto. E sarebbe veramente un'opportunità grande, perché avere tutti gli studenti all'interno di questo sito crea migliori condizioni per una didattica di eccellenza e un'efficacia dal punto di vista dei servizi scolastici.